salve ragazzi veramente grazie grazie di cuore a tutte le persone che mi sostengono sul mio canale youtube cliccando proprio sulla parola grazie quando voi scenderete sotto il miei filmati troverete le parole iscriviti commenta scarica e troverete anche la parola grazie basta cliccare sopra e fate la vostra donazione vi ringrazio tanto e vi aspetto un abbraccio grande teniamo la palla tra due ginocchia ok controlliamo prima l'appoggio dei piedi che sia la distanza che sia corretta ok e poi non la stringiamo troppo la palla aiuta molto per avere la corretta postura perché le ginocchia a tantissime persone tendono avanti oppure dentro o fuori o dietro invece la palla diciamo che corregge un po' le braccia lungo il busto il bacino è pari e le spalle sono basse svuotiamo svuotiamo l'aria dalla pancia dallo stomaco e dal petto e iniziamo la respirazione prendiamo l'aria dal naso la bocca è chiusa e lo buttiamo fuori con la bocca continuiamo continuiamo ispiriamo l'aria fresca ed espiriamo l'aria tiepida e ancora ispiriamo l'aria fresca ed espiriamo l'aria tiepida pieghiamo le gambe buttiamo fuori l'aria uno stendiamo inspirando due stendiamo inspirando tre più che possiamo stendiamo quattro stop il bacino va avanti a destra dietro dietro a sinistra avanti stop giù la testa le spalle vado a toccare la palla con due mani stop salgo curvando ultima la parte cervicale allineo il bacino il bacino va avanti a sinistra dietro a destra avanti stop chiudo la testa le spalle le mani toccano la palla tolgo l'aria e spiro l'aria saliamo curvando ultima parte cervicale il profilo destro uno il profilo sinistro due il profilo destro aumento il profilo sinistro torniamo in centro giù la testa scendiamo espiriamo l'aria il corpo scende le gambe piegatissimo salgo curvando pesantissimi il bacino è avanti sollevo la testa sollevo la testa il bacino va a destra dietro a sinistra avanti a sinistra dietro a destra avanti giù la testa scendo tolgo l'aria tolgo l'aria le gambe sono piegate e spiro salgo curvando stringo il gluteo muscolo della pipì e dell'avanti a destra solle braccia unisco le mani uno mi piego a destra e spiro mi piego a sinistra e spiro torno apro 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 intreccio dietro stacco le braccia chiudo le mani insieme scendo chiudo butto fuori l'aria sollevo la testa salgo con la schiena dritta giro a destra aumento a sinistra aumento torniamo dritti sulle braccia unisco a sinistra aumento a sinistra allungo a destra allungo torno apro intreccio stacco aumento vado giù e spiro l'aria chiudo la testa le mani unite insieme sollevo la testa stendo la colonna vertebrale salgo crescendo giro a sinistra molto giro a destra molto torniamo avanti su inspiro apro apro e spiro scendo prendo due cavigli mi chiudo sollevo la testa stendo la colonna vertebrale salgo vado dietro e spiro torniamo dritti su spiro l'aria torniamo dritti su spiro l'aria torniamo dritti su inspiro chiendo le mani lontanissimi prendo le caviglie chiudo aumento tiro 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 sulla testa salgo con la schiena dritta vado dietro e spiro l'aria torniamo dritti su spiro lontanissimi prendiamo la palla appoggiamo il piede destro davanti la gamba è piegata avanti il bacino ai pari non è una gamba dietro l'altra ma sono aperte come larghezza delle spalle ok bene abbiamo le maniche un po sopra i fianchi stringiamo le dita dei piedi uno prendere la palla allargo stringo due allargo stringo tre allargo stringo quattro allargo vado giù butto fuori l'aria chiudo la testa uno salgo curvando risucchio la pancia allungo 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 l'aria fuori due mi chiudo salgo curvando attivate addominali equilibrio attivate addominali tre espiro l'aria il bacino ai pari salgo muovo il collo tocco il petto tocco il petto e alzo E quattro, espiro l'aria, salvo curvando, salvo, salvo, salvo sulle braccia, il gomito sinistro, tocco le vertebre, piego la gamba sinistra, sposto il bacino avanti, tiro, allungo, tiro, ancora, ancora, il bacino avanti, avanti. Stengo la gamba sulle braccia, aprendo e abbasso, preparo dall'altra parte, la mia gamba sinistra, le gambe aperte come l'archezza delle spalle, il bacino è pari, le spalle sono pari, chi può le mani sopra i fianchi, lungo il busto o anche aperti, dritti. Stringo le dita del piede sinistro, forte uno, allargo, forte due, allargo, forte tre, allargo, forte quattro, allargo. Scendo, espiro l'aria, allungo giù la testa, salvo curvando, stringo i glutei, allungo, aumento, scendo, butto fuori tutta l'aria. Salvo curvando, dai, attiva addomini, chiudi la testa, ultima la parte cervicale. Tre, scendo, chiudo la testa, muovo il collo, salvo, tocco il petto, le spalle bassissime, su. E ultima, scendo, chiudo, espiro l'aria, salvo curvando, allungo, 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 sulle braccia il gomito destro. Piego la gamba destra, sposto il bacino avanti, giù le spalle, togli l'aria, alza la testa, tira, tira, tira. Stendo sulle braccia, apro e abbasso. Prendo la palla, allargo molto le gambe, larghe, larghe, larghe. La palla dietro il collo, apriamo i gomiti. Piego le gambe, scendo giù, mi chiudo e spiro l'aria, gomiti aperti. Stendo le gambe, chiudo i gomiti, spingo la testa di più. Sollevo la testa, apro i gomiti, salvo con la schiena dritta, su. Piego il corpo a destra, piego il corpo a sinistra. Torniamo altri. Piego le gambe, scendo giù, butto fuori l'aria, la schiena è dritta, gomiti aperti. Stendo le gambe, chiudo i gomiti, chiudo la testa di più, butto fuori l'aria. Sulla testa apro i gomiti, salvo con la colonna vertebrale dritta, stringi i glutei, piega il corpo a sinistra, espira l'aria. Torna a destra, espira l'aria, torna a linea, su. Vado a sinistra, allontano la palla, più che posso sul lato sinistro la testa tra le braccia. Piego la gamba a sinistra, uno, stendo inspirando. Piego due, stendo inspirando. Piego tre, stendo inspirando. Piego quattro, stendo inspirando. Prendo la palla, chiudo la testa verso il petto, salvo curvando. Lato sinistro, salvo curvando, dritti su, inspiro. A destra, espiro. Allontano la palla, la testa, tra le braccia, la schiena è dritta, la pancia è dentro. Piego la gamba a destra, uno, stendo inspirando. Le braccia sono stese. Due, la palla va avanti, stendo inspirando. Tre, stendo inspirando. Quattro, stendo inspirando. Prendo la palla, chiudo la testa, salvo curvando. Lato destro, salvo. Completamente dritti, sto. Allargo le gambe un po' di più, le braccia stese. Giro a destra, uno, in alto, a sinistra e in basso, avanti. A sinistra, in alto, a destra e in basso. A destra, in alto, a sinistra butto fuori l'aria. A sinistra, in alto, a sinistra, in alto, a destra, via. Giù la testa, scendo. Le braccia vanno molto avanti, espiro l'aria. Spingo la palla più che posso avanti. Uno, le braccia stese, le gambe stesse, la schiena è dritta. Le girisci un po'. Due, espira. Torna e inspira. Tre, espira l'aria. Torna e inspira. Quattro, chiudi la testa verso ombelico. Uno, sollevala verso il soffitto. Ombelico, due. Solleva verso il soffitto, a linea dritta. La mano destra, prende la caviglia a sinistra. Giro a sinistra, giro la testa. Stendo il braccio. Sinistra. E spiro l'aria. Torno al lupo, allineo, spingo di più. Le gambe stesse, il bacino pari, le spalle pari. La mano sinistra, prende la caviglia a destra. Giro di più. E spiro l'aria. Torniamo. Avanti molto di più. Avviciniamo la palla verso di noi. Chiudiamo un po' le gambe. E ci mettiamo a sedere. Giù la testa. Giù la testa. Le mani sul pavimento. Allardiamo molto le ginocchia. Alziamo la testa. E piano piano decidiamo la posizione con le gambe aperte come larghezza delle spalle. Seduti sopra la palla. Le mani sopra le ginocchia. Il bacino va avanti. Uno. Dietro. Inspiro. Avanti. Curvando. Due. Dietro. Inspiro. Avanti. Tre. Svuota la pancia. Avanti. Quattro. E dietro. Torna al bacino. Pari. Giriamo a destra. Prendi il ginocchio e la mano sul pavimento. Gira. Torna. Cambia. Espira. Gira. Usa le braccia. Via. Prendi. Usa la forza. Usa forte. Sali. Cambia. Aumenta. Di più. Gira. 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 Cambia. La terza volta. Aumenta. Cambia. Aumenta. Espira. Vai. Ultima. Aumento. Ancora. Torno. Aumento. Ancora. Torno. Non muovo le gambe. Sollevo dietro. Stendo la colonna vertebrale. Vado avanti. La testa tra due ginocchia. Uno. Sollevo la testa. Dietro al buco. Avanti. Due. Svuoto la pancia. Sulla testa. Vado dietro. Torniamo dritti. L'orecchio destro verso la spalla. Destra. Vai a sinistra. Vai a destra. Vai a sinistra. Torniamo dritti. Stendiamo le gambe aperte. Ballerina. Troviamo la nostra posizione. Sedute in centro. Le gambe. Ognuno decide più larghe possibile. Svuotiamo la pancia. Le mani sopra le cosce. Stendo la colonna vertebrale. Pieda martello. Prendo l'aria. Ballerina. Allungo. Martello. Inspiro. Ballerina. Aumento. Martello. Di più. Ballerina. Sto crescendo. Martello. Sto. Vado al lato destro. Prendo avampiede se posso. Tiro il piede. La mano sinistra. Spinge la gamba a sinistra. Giro a sinistra. Spingo il bacino avanti. Giù le spalle. Torno altissima. Prendo l'aria. Vado. Aggancio avampiede a sinistra. Spingo la gamba a destra. Giro a destra. Il bacino va avanti. Togliamo l'aria. Torniamo del rinno. Andiamo avanti. Spostiamo i glutei. Perché se non caschiamo. Andiamo avanti. Piede a martello. Pogliamo il pavimento. Espirolare. Sulla testa. Cammino con le braccia. Mi metto a sedere. Dritta la colonna. Vertebrale. Piedi a ballerina. Vado a destra. Mi chiudo. Le braccia hanno la stessa lunghezza. Sono sopra la gamba a destra. Ballerina. Espirolare. Sulla testa. Salgo con la schiena dritta. Vado a sinistra. Espirolare. Allungo. Molto di più. Sulla testa. Salgo con la schiena dritta. Con i piedi a ballerina. Vado avanti. Mi sposto leggermente. per non cascare. E vado giù. Ballerina. Espiro l'aria. La mano destra. Prende la caviglia a destra. Giro a destra. Lì lascio il braccio sinistro fermo. Torno. Stendo di più. La mano sinistra nella caviglia a sinistra. Gira la testa a sinistra. Torna. Vai più giù. Sulla testa. Cammina. Cammina. Dritta. Andiamo a chiudere le gambe come larghezza delle spalle. Decidiamo la nostra posizione. Piedi a ballerina. Giù le braccia. Se possiamo sopra le cosce oppure sul pavimento. Decidete da soli. Giù la testa. Il profilo destro. Dietro. A sinistra. E in basso. Vado avanti. Prendo due taloni. Mi chiudo. Mi chiudo. Mi chiudo. Sulla testa o la schiena dritta. Salgo con la schiena dritta. altissima. 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 Giù la testa. Il profilo sinistro. Dietro. A destra. E in basso. Vado avanti. Vado avanti. Chiudo. Aumento. Prima la pancia, lo stomaco, il pezzo. E metto la fronte sulla testa o la schiena dritta. Salgo. Molto di più. Piego le gambe. Le braccia sono dietro. Appoggio i glutei sopra il pavimento. Le gambe aperte con larghezza delle spalle. Stempo le braccia più chiuse possibile dietro. Spingo il petto avanti. Rilasso. Inspiro. Spingo il petto due. E rilasso. Spingo il petto tre. E rilasso. Spingo il petto quattro. E rilasso. Mi aggiusto. Vado più avanti. Altezza delle scapole. Le scapole sono fuori. Le spalle sono fuori. Le mani dietro. Il cuscino. Il cuscino. Sopra appoggio la testa. La testa è molto rilassata. Il collo sopra tutto. Vado dietro con i gomiti. 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 Vado dietro. Decido io dove. Chiudo i gomiti. Prima alzo la testa. Tocco il petto. Poi vado su. Apro le braccia. Le gambe vanno a destra. Le braccia sul pavimento. Vanno a destra. Le gambe vanno a sinistra. Svuoto la pancia. Torno. Preparo il cuscino. La testa. Il collo dorme. Vado dietro con i gomiti. E spiro l'aria. Chiudo i gomiti. Sollevo la testa. Tocco il petto. Apro le braccia. Sul pavimento. Le gambe vanno a destra. E spiro l'aria. Vanno a sinistra. E spiro l'aria. Torno in centro. Le mani sopra le ginocchia. Chiudo la testa. Vado sulle braccia. Dietro. Mi lascio andare. E spiro l'aria. Apro le braccia. Abbasso. Sollevo la testa. Prendo le ginocchia. Butto fuori l'aria. Sollevo le braccia. Vado dietro. E spiro l'aria. Apro le braccia. Sulla testa. Prendo le ginocchia. Le mani sul pavimento. Mi metto a sedere. La posizione della rana. Metto la palla tra le gambe. Prendo le caviglie. Stendo la colonna vertebrale. l'orecchio destro verso la spalla destra. Cambio a sinistra. Due. Cambio giù la testa. Avanti. Sollevo la mano dietro. o su. Torniamo. Torniamo. Il profilo destro. Allungo. Torniamo. E a sinistra. Torniamo giù la testa. Il profilo destro. Dietro. A sinistra. E in basso. Vai a sinistra. Dietro. A destra. E in basso. Solleva la testa. Sostieni la colonna vertebrale. Chiudi gli occhi. E inizia la tua respirazione. L'aria fresca. Entra dal naso. L'aria tiepida esce fuori con la bocca. L'aria fresca entra dal naso. L'aria tiepida esce fuori con la bocca. Prendiamo tutto il tempo per noi. Per essere qui ed ora. Con le nostre respirazioni.